Namaste sono East Brave e bentornati ad un altro episodio di Sneak Peek, la rubrica settimanale che vi porta a un gioco diverso dal solito ma che potrebbe diventare una serie. Oggi giochiamo a Through the Ages, inviato dal CGE direttamente al sottoscritto per poterne fare una recensione. Questo è uno di quei giochi particolari perché si basa su un gioco da tavolo, Through the Ages, New Story of Civilization, interessante perché ha un altro, intanto mi piace molto una piccola chicca che vi faccio vedere adesso, il fatto che è in italiano ed è dovuto a una traduzione, è una traduzione matoriale, bello perché viene riconosciuta questa cosa andando appunto qua e andando su lingua e vedete che c'è scritto la possibilità di aggiornarla anche e qua ci sono quelli che hanno dato un'occhiata e hanno tradotto questo gioco, mi piace come ci sia questa trasparenza nei confronti di chi ha tradotto il gioco e come appunto il gioco stesso da GOG, Good All Games, scarichi la traduzione e mi aggiorni il gioco automaticamente, mi piace tantissimo questo sistema, spero che lo facciano più spesso anche in altri videogiochi. Così come su Steam il tutto viene fatto attraverso il workshop, sarebbe figo farlo anche attraverso dei sistemi integrati come sono questo che funziona molto bene, il gioco adesso lo vediamo, facciamo il tutorial per una mezz'oretta, un'oretta, dipende da quanto durerà questo video, lo vedrete sotto nei commenti e se avete altri giochi da consigliarmi, da trattare dentro questa rubrica, fatelo pure. Perfetto, dopo un po' di tempo abbiamo anche aggiornato, io ho messo già il mio account Ace the Brave con il mio personaggino, facciamo una partita locale? Sì, ma prima vorrei vedere, abbiamo anche il discorso, ne vuoi uno? No, non ne voglio uno di account online, nel mio caso voglio fare una partita locale, voglio fare un tutorial, così capiamo, vedete che ci sono molti personaggi storici là dietro. Ciao Ace the Brave, benvenuto nel tutorial di Through the Ages, io sarò la tua guida, questo è il tutorial, non sentite l'audio, non so se perché non c'è proprio l'audio, forse ho sbagliato io qualcosa, sì infatti vedo l'audio molto basso, infatti lo alziamo leggermente per capire, notifica chiaro, soffuso, muto, insomma quando inizia il tutorial una del partita viene caricata, il gioco trova notifica, insomma tutte queste piccole cosucce qua devo dire che ci sono, gli avversari della partita veloce, qua possiamo mettere l'interfaccia grafica più grande e più piccola, a me mi piace leggermente più piccola e abbiamo ovviamente il round, in questo caso siamo al round 1, round 2, round 3, round 4, turno fino al 10, quindi riprendiamo pure, beh assomiglia più ad un piccolo tribù per adesso, il tuo compito è di portare allo splendore e alla gloria e queste sono le nostre cose, abbiamo due miniere di Xera, un laboratorio, qua abbiamo una zona vuota e qua abbiamo due fattorie e qua abbiamo il dispotismo, un'era di era e quindi abbiamo queste cose qua, sopra abbiamo una serie di carte, adesso vedremo che ci verranno spiegate, vicino a me puoi vedere una fila di carte, questo è antico Vlada che ci parla, vede che c'è Aristotele, Mosè come personaggi, poi abbiamo delle meraviglie che sono la biblioteca di Alessandria, le piramidi, il colosso Irodi, i giardini pensili e poi abbiamo invece delle carte gialle che sono le carte azioni e dovrei dire basta, vicino a me puoi vedere una fila di carte, è through the ages un gioco di carte, in effetti anche la tua civiltà è fatta di carte, per favore clicca su uno degli edifici al centro, quindi cliccando vedete che abbiamo questo, vedi carte con sopra delle pedine e quindi abbiamo una carta agricoltura, una carta bronzo, una carta filosofia, una carta religione, vedete che c'è un sacco di roba lì, tutta sopra, ora non puoi vedermi, beh spero che tu possa comunque leggere quello che sto dicendo, mi piace che il fatto che ci sia un tutorial un po' scherzoso, ovviamente io con la webcam devo andare a piazzarmi in una zona un po' diversa da questa, anzi spostiamola subito, sta iniziando una cosa tipica, ops non questo scusate, voglio spostare la webcam, voglio spostarla da questo lato, diciamo che mi sposto di qua, potrei mettermi anche al posto della faccina quasi quasi, però facciamo pure così. queste carte sono le tecnologie iniziali della tua civiltà, le pedine gialle, rappresentano la tua popolazione, li chiameremo lavoratori, quindi ce ne sono due sull'agricoltura, due sul bronzo e uno sulla filosofia. Agricoltura è una tecnologia di fattoria, ogni lavoratore su questa carta rappresenta una fattoria, perfetto. I due lavoratori sul bronzo rappresentano un miniere, quello su filosofia è il tuo primo laboratorio. Ah ok, quindi questo si traduce su che cosa sono gli edifici che abbiamo dietro. la carta religione non ha lavori, ha la tecnologia per costruire templi, ma non è ancora nessun tipo di templi costruito. Ora clicca lo sfondo dietro le carte per tornare alla schermata principale, quindi facendo così appunto abbiamo due miniere, due fattorie e un laboratorio. Vedi due fattorie e due miniere, un laboratorio, le luci gialle accese ti ricordano che queste sono in realtà delle carte con dei lavoratori gialli. bello perché dalle carte si passa a una rappresentazione diversa, mi piace molto questo sistema di approccio, devo dire che è carino da vedere. Questo è un sito di costruzione, più avanti potrai costruirci i templi e quel grande edificio è la sede del tuo governo, non ha luci gialle perché non ha bisogno di lavoratori, ne parleremo più avanti. Quindi il primo turno passa, il primo round della partita rappresenta l'antichità, la chiameremo era A. L'unica cosa che puoi fare nel primo turno è prendere carte dalla fila delle carte. Paghi per questo splendendo azioni civili, che sono il cosino argento, il costo è mostrato sotto ogni carta. Ok, quindi posso comprare, ovviamente sono alcune carte che costano molto di più che sono qua in fondo, queste costano due e queste costano uno, quindi sono divise da questo cosa verticale. Ora è un'unica azione civile, quindi puoi prendere solo una carta e deve essere una delle 5 più a sinistra, quindi uno di queste. Per esempio puoi cominciare la costruzione della libreria di Alessandria, oppure puoi fare provviste o accelerare la crescita della tua città, o puoi scegliere Aristotele per guidare la tua civiltà. Puoi cliccare su una qualsiasi per vederlo da vicino, prova con Aristotele, quindi se clicco Aristotele mi mostra la carta Aristotele, sarebbe un grande leader, ma per il momento chiudiamo la panoramica della carta cliccando un punto qualsiasi. Quindi possiamo prenderlo e ogni volta che prendi una carta tecnologia dalla fine delle carte e godagni un punto, quindi è un bonus che ha. Adesso devo chiederti, e so che non sarà facile con tutte queste belle carte, per favore prendi me come tua prima carta, va bene. Posso aiutarti a imparare velocemente, inoltre questa X sopra di me e la mia testa mi rende piuttosto nervoso. Mi fa ridere un po'. Abbiamo un tico Vlada, che a quanto pare è uno degli sviluppatori, ha la sua carta, ti può insegnare come si gioca a 3D ages e prendiamolo. Grazie, sono sicuro che faremo grandi cose insieme, ma non ora, hai speso la tua unica azione civile per prendere la mia carta, infatti qua le vedete. Terminiamo quindi il primo turno, quindi per farlo dobbiamo premere il pulsante fine turno da questa parte. Produzione, adesso passiamo alla produzione. Ora c'è la tua fase di produzione, i tuoi edifici produrranno cibo, risorse e punti scienza. Ok, cibo e risorse. Inizia con il prossimo round, guarda cosa succede alle carte contrasegnate con una X rossa. Vengono scartate, quindi le ultime tre carte vengono scartate, vengono comprate altre carte e via dicendo. E qua c'è Giulio Cesare che è apparso, quindi man mano che peschiamo carte diventa sempre più avanzato, stiamo andando avanti nel tempo, quindi è un po' civilization, un po' colonization anche come gioco, però in versione carte, mi piace molto come situazione. Visto le mie carte nelle posizioni contrasegnate sono state rimosse dal gioco e tutto si è spostato verso sinistra, quindi se non lo compravo lui andava via. Viu, penso che ti dè buon favore, se non avessi preso la mia carta sei riferito al dimenticatoio. Vedete che abbiamo quattro punti adesso da poter prendere. Fase azioni. Quindi cominciamo il tuo secondo turno con la mia carta nella tua mano, una carta nella tua mano non ha effetto, ho abilità finché non viene giocata. Ops, questo significa che quando ti do consigli sto infrangendo le regole, mi sa che faccio meglio di star zitto fino a quando capirai come giocare la mia carta. Ok, adesso dobbiamo scegliere cosa fare? Abbiamo, possiamo comprare delle cose, vediamo pure come funzionano queste risorse. Trova un modo per giocare la tua carta leader, beh, premiamolo, giocalo. Quindi è diventato il mio leader, è diventato qua sotto, è diventato il mio leader? Posso ufficialmente aiutare la tua civiltà? Giocare la mia carta ti è costato un'azione civile, te ne restano ancora tre, quindi anche metterlo e giocare una carta è costato un'azione. In pratica questo significa che possiamo fare fino a tre altre cose in questo turno, ma prima di farlo devo un'occhiata a ciò che abbiamo prodotto nell'ultimo turno. Guardiamo di nuovo le carte. Quindi qua mi viene detto cosa ho prodotto. Sulla carta bronzo abbiamo due lavoratori, questi rappresentano due miniere. Durante la fase di produzione ogni miniere produce una pedina blu, una cassa. Il simbolo del ferro in basso nella carta bronzo significa che ogni pedina blu vale una risorsa. Ok. Le fattorie funzionano nello stesso modo, ma abbiamo visto che una fattoria vale due di cibo. Solo i giocatori della versione da tavola devono contare il loro cibo e le risorse in questo modo, perché effettivamente vengono contate, ci sono le pedine da poter muovere. Nella versione digitale abbiamo aggiunto una barra delle statistiche per tua comodità e quindi questo è quante ne abbiamo e quante ne guadagniamo, quante ne abbiamo e quante ne guadagniamo, quante ne abbiamo e quante ne guadagniamo. Abbiamo una lampadina, non so bene come chiamarla, e ne produciamo una. E qua abbiamo 0 di 0, che è quello che non so che cosa sia quella risorsa. Questa ci mostra che hai due risorse, che ne produrrai due. Qui vedi le tue riserve di cibo. Questi numeri sono i punti scienze e i punti cultura, ne parleremo più avanti. Quindi anche qua è un po' civilization. Questa pedina gialla è un lavoratore inutilizzato, rappresenta un gruppo di persone che in questo momento non ha nulla da fare. Che bello, mi piacciono i tutorial così divertenti. Un lavoratore può essere impiegato per costruire un nuovo edificio. Un nuovo laboratorio o tempio costerebbero 3, più di quanto abbiamo in questo momento. Quindi per farlo, per giocarla, abbiamo bisogno di 3 di questo. Ma possiamo permetterci una nuova fattoria o una nuova miniera. Proviamo a costruire una nuova fattoria. Quindi così. Ah ok, la clicco. Una delle tue tecnologie di produzione iniziale distrugge la fattoria oppure possiamo costruire una nuova fattoria. Quindi abbiamo aumentato la fattoria. Hai costruito una nuova fattoria semplicemente premendo un pulsante. Ma che cosa è successo di preciso? È stata spesa una delle azioni civili. Le nostre due risorse sono state spese. Ah ok, quindi questo è il costo per costruirne una in più. Però adesso abbiamo un più 3 nel prossimo turno. Vediamo come appare nella venduta d'assieme. E quindi qua sono diventate 3, vedete? 3 luci significano 3 piccole fattorie. Produrremo 3 ogni giorno, non è fantastico? Beh. Oh, come? Così per dire, 3 miniere sarebbero meglio. Ehi, che te ne importa? Questa è la nostra civiltà. Aspetta un attimo, sai cos'è? Ha ragione. Il prossimo turno avremo bisogno di risorse piuttosto che di cibo. E abbiamo speso le nostre uniche risorse per una fattoria. Per fortuna c'è un pulsante per annullare. Proviamolo. Quindi premiamo il pulsante annulla, torniamo indietro fondamentalmente. Qua mi mostra appunto la lucetta. Scommetto che ci saranno momenti in cui ringrazierai questo pulsante annulla. Quindi costruiamo una miniera. Quindi vado sulla miniera. Siccome conosciamo già il suo costo, non abbiamo bisogno di aprire il menu carta. Ti mostrerò in modo più rapido. Puoi semplicemente trascinare il lavoratore. Quindi possiamo lavorare da questa schermata praticamente. Quindi no, voglio costruire una in più. Quindi è un modo per astrarre rispetto al gioco di carte. E mi piace perché molto spesso i giochi digitali della versione di carte sono uguali identici. Invece qua vedo che c'è qualcosina in più di conversione. Non è male. Anche se è solo per la visualizzazione. Quindi il prossimo turno avremo tre risorse per poter costruire il laboratorio o quello che vogliamo. Non possiamo fare nient'altro. Abbiamo ancora due azioni civili. Spendiamole prendendo carte. Certo. Come puoi vedere gli altri leader dell'antichità, le carte verdi sono oscurate. Ogni giocatore può prendere un solo leader in ogni era e tu hai già me. Che sfortuna. Anche tutte le tue carte sezione più a destra sono oscurate. Prenderne una ti costerebbe tre. Prendiamo una carta azione gialla. Sviluppo barma. Mi parla una buona scelta. Va bene. Trasciniamole la fila. Fantastico. Le carte azioni possono essere usate più avanti nel turno per una serie di benefici monouso. Come un'ultima azione in questo turno ti suggerisco di cominciare la costruzione delle piramidi. Che mossa scontata. Grazie per il contributo Aristotele. Prendiamo le piramidi. Conosciamo già due modi per prendere una carta. Un terzo è quello di cliccare due volte. Quindi possiamo cliccare due volte. E l'abbiamo già messa qua in fondo. Le meraviglie non vanno nella tua mano. Vanno invece direttamente in gioco. Proprio sopra questo fumetto puoi vedere che la tua civiltà ha cominciato a costruire le piramide. Clicca sul sito di costruzione. Quindi qua. Le meraviglie sono le creazioni più epiche che tu possa costruire nel gioco. Ecco in genere. Adesso sto coprendo di nuovo la cosa. Quindi devo spostarmi di nuovo. Mettiamoci. Ah aiuto. Spostiamo di nuovo la webcam. Spostiamola qua. Qua dovrebbe andar bene spero. Tipo qua. Spero che vada un po' meglio. Completare. Ci vogliono più turni per completare una meraviglia. In questo momento non hai risorse azioni civili per costruire le piramide. Quindi abbiamo lo stadio. Che dipende da 1, 2, 3 azioni. 3, 5, 6 risorse. Ma se vuoi puoi pagare 5 per terminare la meraviglia immediatamente. Puoi sempre comprare altri nello shop online. Questa cosa è molto negativa. A me non piacciono mai queste cose. Dimmi che stai scherzando. Ah no scusi mi stavo scherzando. Questo non è quel tipo di gioco. Grazie per fortuna. Avrei davvero bisogno di raccogliere tutte le risorse per completare una meraviglia. Nel caso delle piramidi è 3 più 2 e più 1. Torniamo alla schermata giocatore. Abbiamo speso tutte e 4 le azioni. Ti ricordo esattamente cosa ne abbiamo fatto. Ah quindi prima era segnata su questa carta qua. E' segnato cumulativamente cosa ci vuole. Quindi ci vuole 6 risorse in totale. Se no non importa c'è un modo, un comodo registro alle attuazioni. Diamogli uno sguardo. Quindi c'è il log. Credo. Dov'è? Qua? Mi mostra esattamente cosa ho fatto. Vedi? Tutto qua con i dettagli. Controlla il registro quando hai bisogno di altri dettagli su ciò che sta succedendo. Molto bene che ci sia un log. Ora è arrivato il momento di finire il turno. Certo. Abbiamo la produzione. Produraimo 2 e 3 perché ora abbiamo 3 miniere. Perfetto. Ora possiamo salutare Aristotele. Ciao. Aspetta un attimo. Ok. C'è Mosè. Quando si riempie la fila delle carte il gioco non userà più le carte di era A. E questo è il mazzo di era 1. Era I forse. Le nuove carte verranno distribuite da qui. Quindi finiscono. Quindi ci sono mazzi era e man mano andiamo avanti. In questo caso abbiamo il genio ingegneristico. Cominciamo ad avere delle carte di era I o 1. Siamo nella prima vera era. Il medioevo. Questa era durerà fino a quando il mazzo 1 terminerà le carte. Ora diamo uno sguardo alla carta azione che abbiamo pescato al turno precedente. Sviluppo urbano. Costruisce migliore un edificio urbano. Paga 1 in meno. Ottimo. Dici che possiamo costruire un tempio e un laboratorio con uno sconto forte. Ma per qualche ragione entrambi i pulsanti sono disabilitati. Cliccane uno. No. Non hai il lavoratorio inutilizzato disponibile. Certo. Non possiamo costruire un nuovo edificio perché non abbiamo lavoratori inutilizzati. Torniamo alla schermata giocatore. Abbiamo bisogno di un nuovo lavoratore. Vedi il pulsante forma di freccia con l'icona 2? Cliccalo per favore. Quindi questo mi fa generare un'altra persona. Un gioco da ragazzi. Abbiamo speso due cibi e un'azione civile. Ora abbiamo un nuovo lavoratore. Creare un nuovo popolazione non è così facile. Ma faremo Starmutti Race the Brave Ma faremo questa chiacchierata su volatili e api più tardi. Ora dobbiamo dare un'occupazione al nostro nuovo lavoratore. Al tuo servizio, mio signore. Fantastico. Diamo uno sguardo ai nostri edifici. La panoramica edifici è qua. Abbiamo un lavoratorio in basso nella carta c'è scritto che produce un punto scienza. E questa informazione è confermata dalla barra delle statistiche. Che guadagniamo uno per turno. In questo modo abbiamo accumulato due punti scienza dopo i primi due turni. La carta religione produce uno, cioè un punto cultura. Non ci sono lavoratori quindi non abbiamo templi. Ecco perché non produce niente. La cultura rappresenta come ogni civiltà l'influenza e la storia del mondo. Il giocatore con il maggior numero di punti cultura alla fine della partita sarà il vincitore. Ma possiamo occuparci della cultura più tardi. Per adesso dovremo incrementare la nostra produzione di punti scienza. Costruiamo un laboratorio. Quindi questo lo trasciniamo qua. Costruiscilo usando sviluppo urbano? Ahah ecco come funziona. Usiamola. Quindi questa mi permette di risparmiare uno. E abbiamo costruito. Penso dunque sono. Fantastico. Abbiamo un nuovo laboratorio. Guardiamola la venduta assieme. Ta-da. La nostra produzione è salita a due di scienza. Nota anche che la carta sviluppo urbano non c'è più. La carta gialla vengono scartate dopo ogni uso. Ma ne è valsa la pena. Abbiamo risparmiato uno di risorsa che possiamo conservare per un turno successivo. Ora prendiamo alcune carte con le nostre due azioni rimanenti. Leader sono ancora oscurati. Ed ora anche le meraviglie lo sono. Quando hai una meraviglia in costruzione non puoi costruirne un'altra. Prendiamo le due carte azioni più economiche e senti libero di leggere cosa fanno. Quindi questa è provviste. Guadagna 1 e 1. Ok. E eredità culturale è guadagniamo 1 di scienza e 4 punti vittoria. Va bene. Quindi possiamo giocarle. Terminiamo il turno. E andiamo pure avanti così. Quindi durante la produzione 2 e 3. Totalizziamo 2 di scienza. Ti mostrerò anche da dove vengono le piedine blu. Cibo risorsa. Questa è la tua scorta. Vedi questo originalmente era un gioco da tavolo. Quindi non puoi avere un numero illimitato di piedine. Ah ok. Quindi è messa comunque questa cosa. E le piedine gialle vengono da... Sorpresa sorpresa. Qui. La tua riserva. Quindi non abbiamo un numero massimo infinito. Perché sennò il gioco... Io produco un sacco di gente e diventa enorme il gioco. Che non dicevi di tentare un turno super veloce e super semplice? Innanzitutto facciamo progrettire nelle piramidi. Cerchiamo di capire come fare. Allora clicchiamo le piramidi e diciamo di costruire questo. Visto che abbiamo 3, abbiamo 4. Quindi basta fare così. Fantastico. Abbiamo pagato 1 e 3 di risorsa. Una pedina della nostra scorta è stata messa sulle piramidi. Per indicare che uno stadio di meraviglia è stato completato. Ah quindi posso... Ho questa cosa delle pedine blu che posso utilizzare fino a un certo punto. Bello perché è un bilanciamento totale delle cose che posso fare. Che ne dici di prendere qualche altra azione e terminare il turno? Allora cosa facciamo? Possiamo prendere le azioni? Vogliamo prendere le azioni? Andiamo con sviluppo urbano. Andiamo con terra ricca. Costruisci o migliora una miniorno? La fattoria paga 1 in meno? Sì. Possiamo costruire una di questa? Ah vuoi farmele prendere tutte? Eh va bene. Ah limite di carte scusate. Vedo un altro problema. Corruzione. Se lasci in giro troppo cibo, risorse e materiali di accostruzione, le persone vengono tentate di far sparire un po' di questo eccesso. Questa icona mostra se termini adesso il tuo turno perderai due risorse a caso della tua corruzione. Per evitare la corruzione abbiamo bisogno di coprire questa icona facendo tornare le pedine di blu alla riserva. Per fare questo bisogna spendere altro cibo e risorse. Altro che turno super veloce e super semplice. annulliamo l'intero turno. Va bene. Quindi torniamo indietro. Ricominciamo. Abbiamo troppo cibo e abbiamo bisogno di spendere di più. Quindi facciamo questo. Aumentiamo la nostra popolazione. Eccellente. Abbiamo un nuovo lavoratore. Ti stai probabilmente chiedendo come mai questo lavoratore è di così pessimo amore. Sembra che ci sia da spiegare ancora qualcosa sulla popolazione di riserva. Sempre più roba e sempre più complesso. Mi piace. Puoi pensare che le tue pedine gialle della tua riserva rappresentano terra libera. Quando rimuovi una pedina hai più popolazione e meno terra libera. La tua popolazione iniziale potrebbe semplicemente procurarsi il cibo di cui hai bisogno e non avrebbe avuto il tempo di lamentarsi. Ma quando hai svuotato il settore più a destra della tua riserva la tua popolazione è diventata più densa e più esigente. Questa icona ci dice che la tua popolazione mangerà da adesso uno dopo ogni raccolto. Uno di cibo. Vogliamo più pane. Inoltre il costo per aumentare la tua popolazione è aumentato da due a tre. E questa icona significa che uno dei tuoi lavoratori sarà scontento fino a quando uno dei tuoi edifici Lidro Meraviglia fornirà almeno una faccia felice. Più pane e giochi. I lavoratori scontenti possono dare delle noie ma non è un grosso problema. Sai come? Sai com'è? Le persone hanno sempre qualcosa di cui lamentarsi. Lascia che ti faccia vedere un vero problema. Costruisci una fattoria. Ok. Ehi! Non ho mai voluto fare il contadino. Odio estrarre i minerali. I filosofi sono sottopagati. Questa è tirannia. Ora abbiamo un problema. Ci manca una faccia felice ed abbiamo costretto la tua gente a lavorare. La faccia rossa arrabbiata ci dice che se terminiamo il turno adesso affrotterei una soppossa. Bello. Presto annulliamo questa fattoria. Torniamo indietro. Ti ho una faccia di nuovo arancione. Se lasci con il tuo lavoratore scontenti battano la fiacca e si ribellino un po'. Gli altri continueranno comunque a lavorare per te. Potremmo lasciare le cose così e tenere disoccupato il lavoratore scontento. Oppure potremmo tentare un altro approccio a rendere davvero felici le persone. Costruiamo un tempio. Quindi tu vieni qua. Abbiamo costruito il tempio. Adesso abbiamo una faccia felice. Perché diamo un'onchiata agli edifici. Eccolo qua. La carta religione dice che ogni tempio oltre a un punto vittoria fornisce anche una faccia felice. La fede porta così tanta gioia nei nostri cuori. Il totale delle tue facce felice è visualizzato sotto la tua riserva. Permettivi di riassumere. Questa è una faccia felice fornita alla tua inciviltà. Questa significa che ti manca una faccia felice il che rende scontento uno dei tuoi lavoratori inutilizzati. Questa significa che ti mancano più facce felici di quanti lavoratori inutilizzabili tu abbia. La sommossa ci restano due azioni civili. Potremmo prendere due carte ma sai cosa ci sarebbe da pianificare un po'. Nel prossimo turno vogliamo terminare le piramidi. Abbiamo bisogno di sei per farlo. Ora puoi vedere che avremo solo quattro il prossimo turno. Sì. Fortunatamente c'è una carta che ci può aiutare. Costa due ma ne vale la pena. Il genio ingegneristico. Perché costruisci uno stadio di una meraviglia e paga due in meno. Prendiamola. Non puoi giocare una carta nel turno in cui l'hai presa. Per finire le piramidi del prossimo turno dobbiamo prendere il genio ingegneristico adesso. È stato un turno difficile ma abbiamo imparato molto. Terminiamo il turno. Quindi di nuovo la produzione. Viene prodotto uno di questo e uno di questo. Guarda il tempio produce il nostro primo punto cultura. Ma abbiamo guadagnato solo un cibo perché la nostra popolazione ha consumato l'altro. Perché siamo un po' in troppi. Giusto avere informazione puoi terminare il tutorial in qualsiasi momento utilizzando il menu qui sopra e più tardi riprendolo da dove l'ho lasciato. Scommetto che non hai bisogno di una pausa in questo momento. Questo turno sarà veloce e semplice. E stiamo per terminare le piramidi. Sai già come costruire meraviglie usando il menu carta? Ti mostrerò un altro modo. Ah prendendo da qua? Costruisci usando il genio ingegneristico. Fantastico. Grazie alla carta azione abbiamo ancora abbastanza risorse per completare le piramidi. E le abbiamo completate. Wow! Le piramidi sono così splendide. Un vero monumento al potere del nostro benevole e saggio governo. Una meraviglia costruita da te ti fornisce i benefici mostrati sulla carta. Che in questo momento non sappiamo. Questo si riflette nel potere che ci danno. Guarda nella parte in basso della carta. D'ora in poi avremo un'azione civile in più ogni turno. Ottimo. Vedi tre azioni spese e ne restano due. Quindi abbiamo cinque azioni adesso possibili. In più ora possiamo cominciare un'altra meraviglia se vogliamo. Comunque costruire molte meraviglie non è così facile. Quando prendi una nuova meraviglia paghi un punto extra per ogni meraviglia che hai già completato. Quindi questa adesso costa due. Vedete qua ci sono le carte da uno, le carte da due, le carte da tre. Ma questa costa due anche se è nella prima posizione. Il problema è che vince qualcos'altro. Dovremo prendere qualche carta. In ogni caso ora che abbiamo cinque azioni civile potremo ottenere fino a cinque carte in mano se volessimo. C'è il massimale di carte che possiamo ottenere. L'era 1 ha carte di diversi colori. Sono tecnologie di vario tipo. Puoi riconoscere una carta tecnologia dal numero blu nell'angolo di l'alto a sinistra che indica il suo costo scienza. Prendiamo la tecnologia del ferro. Una carta azione. La carta azione dell'era 1 in genere sono più forti di quella dell'era A. Quindi tipo questa. Prendi questa carta che ha cinque punti, cinque, due. Insomma tutto un casino. Adesso capiamo perché. E prendiamo la carta riserve. Bene. Il turno prossimo ti mostrerò come sviluppare la tecnologia. Ma per adesso terminiamo il turno. Perfetto. Quindi produciamo. Ah è stato davvero veloce. Non è vero? Beh sì in effetti. Un pochino di più. Abbiamo le norte e vinci anche. Fase azioni. Allora. In questo turno miglioreremo di molto la nostra produzione di risorse. Abbiamo otto punti scienza. Più che sufficiente per sviluppare la tecnologia ferro che costa cinque. Trova un modo per sviluppare il ferro. Suggerimento c'è un modo più veloce per usare il menu carta. Quindi possiamo o cliccarla. Oppure probabilmente possiamo. Tirare da qua no. Giocarla. Ottimo. Puoi svolgere per lo più ogni azione del gioco. Semplicemente trascinando o cliccando due volte una carta. Trascinando una pedina. Cosa è successo? Perché ci abbiamo lo zoom? Abbiamo pagato uno e cinque. Ora la nostra civiltà sa come fondere il ferro. Vedi quel nuovo sito di costruzione? Siamo pronti per eliminare le mini. Per le miniere di ferro. Diamo un momento nello sguardo alla schermata delle carte. Ah ok. Quindi abbiamo la carta che va sopra. Ferro è posizionato sopra bronzo. Sono entrambe tecnologie miniera. Che è dovuto al fatto che c'è questo simbolo in alto a destra. In ogni caso la carta ferro non ha ancora effetto. Non ci sono pedine gialle su di esse. Quindi non abbiamo miniere di era A. Di era 1. Se avessimo un lavoratore inutilizzato e cinque potremmo costruire una miniere di ferro. Ma non ce li abbiamo. Quindi non possiamo farlo. Quello che possiamo fare è migliorare una delle nostre miniere di era 1. Quindi questa produce 2 e questa produce 1. Quindi sotto c'è scritto cosa produce. Qua quanto costa costruirne una. Quindi interessante. Questa costa di più di questa ma produce anche il doppio. Quando migliora un edificio ad un altro paghi la differenza tra i due costi. Quindi pagheremo 3 per trasformare un bronzo in ferro. Esatto. Facciamolo. Trascina il lavoratore della carta in basso e quella in alto. Quindi questo finisce qua. Bene. Abbiamo speso 1 e 3. Adesso abbiamo la miniere di ferro. Peccato che abbiamo finito le risorse. Sarebbe bello poter migliorarne un altro. Ma puoi. Dice Leonardo da Vinci. Oh un altro serpentone. Il mio nome è Da Vinci. Leonardo da Vinci. Quindi dici che dovremmo. Ah giusto. Le carte azione. Giochiamo alcune delle nostre carte azione per ottenere le risorse di cui abbiamo bisogno. Quindi io ho bisogno di risorse. Quindi immagino questo. Eredità culturale. Gioca per mi da più più questo. Proviste. Forte. Giocare le due carte ci è costato 2. Ma ora abbiamo abbastanza risorse. Bella mossa. Quindi abbiamo 3. Ovviamente. Spendiamo la nostra ultima azione per questo. Quindi posso prendere questo e spostarla di qua. Eccellente. Adesso sbrighiamoci e terminiamo il turno. Voglio mostrarti come funzionano le carte delle nostre nuove miniere. Quindi ok. Adesso guadagneremo molto di più. Visto. Come al solito ogni miniera produce una pedina blu. Ma la barra di stanto ci dice che adesso abbiamo 5 risorse. Questo è perché la pedina blu su una miniera di ferro vale 2. Quindi questo ci ha dato 2 e questo ci ha dato 1. Quindi 2 per 2 è 4 più 1 è 5. Ci sono regole su come puoi spendere queste pedine blu di alto valore. Ma nella versione digitale il gioco farà tutti i conti per te. Ricorda però che miniere e fattorie migliori permettono una produzione maggiore con meno lavoratori e meno pedine blu. Ottimo. Il tuo ultimo turno è stato alquanto scorrevole. Ora ti segnerò l'arte sopraffine della produzione di cultura. Dopodiché non ci aspetta altro che un radioso futuro. Preparati a morire dice Giallo. Cosa? Chi sei tu? Una civiltà confinante. Ti sei dimenticato di noi? Primo della partita sei venuto a 10. Cioè per favore fatevi da parte in modo che io possa spiegare il gioco a questo nuovo giocatore senza complicarlo con militare e politica. E quale parte di tuo giorno ne hai capito? Sei troppo buono con il nuovo giocatore. Lui ha bisogno di imparare le maniere forti. Sembra che non abbiamo altra scelta che dare il benvenuto ai nostri vicini. Con le nostre lance. Ah ah al tuo servizio. Questi sono i nostri guerrieri. Iniziamo inizialmente gli allontanati in modo che non ti disturbassero. Le unità militari funzionano come gli edifici. Cliccale. Quindi è una carta che si chiama guerrieri. Vedi un lavoratore sulla carta che abbiamo unità guerrieri. In basso della carta c'è scritto che ogni unità fornisce una forza alla nostra civiltà. Torniamo alla schermata principale. Quindi costa due per fare un nuovo soldato. Uno standato giallo indica un lavoratore che presenta un'unità di guerrieri. Gli standati sono quindi come le luci negli edifici. Questa singola unità è l'unica cosa che ci difende. Quindi la nostra forza totale è 1. La forza è molto importante perché è sempre visibile vicino al leader di ogni civiltà. Ecco 1. Lui ha 5. Puoi dirlo forte. Diamo uno sguardo alla civiltà nemica. Clicca sul suo leader. Toglimi le male di dosso. Questo è lui. La pagherai per questo. Lui ha una forza dovuta a questo che vale 1 e questo che vale di più probabilmente. C'ha degli spadaccini. Posso anche fare zoom. Diamo uno sguardo alla schermata dell'avversario. Ha sviluppato un po' di agricoltura e militare. A parte questo non ha molto altro. Più che sufficiente per batterti. Clicca gli edifici per vedere le carte. Quindi lui ha irrigazione, agricoltura, bronzo, filosofia, religione e stampa. Quindi ha tipo questa di livello 2, agricoltura di livello 2. L'irrigazione gli permette di costruire fattori migliori. Ogni piedina blu su questa carta vale 2. Questa civiltà non conosce ancora il ferro. Ha un solo laboratorio. Ma la conoscenza della stampa permette a loro di costruire un tempio, un tipo di edificio. Le biblioteche. Ogni biblioteca produce uno di vittoria e uno di scienza. Adesso clicca sulla freccia a sinistra. Questa. Qui ci sono le unità dell'altra civiltà. Ampar che conoscono la tecnologia degli spadaccini. Che sono più forti dei guerrieri. Quindi ha uno spadaccino che vale 2. Due guerrieri che valgono 1. Quindi avrebbe 4. Perché ha 5? Vedi che i guerrieri e i spadaccini hanno lo stesso tipo di unità. Questo significa che l'unità di guerrieri può essere migliorata a spadaccini. Ok. Suppongo che il tuo avversario migliorerà presto gli spadaccini e i guerrieri che gli restano. Puoi contarci. Guarda. Hanno anche un'altra forma di governo. Vedi quel palazzo stravagante? Cliccalo per favore. E ha una teocrazia. Governo attuale di giallo. Determina il suo limite di edifici urbani e il numero delle azioni civili e militari. Questo governo modifica le sue statistiche. Ok. Quindi interessante che abbiamo anche la forma di governo. Questo gli dà un po' di forza, di cultura e l'obbedienza del popolo. Noi combattiamo per la gloria di Dio e degli dèi, insomma, per quello che sia. E qui dice che teocrazia gli fornisce ogni turno quattro azioni civili e tre azioni militari. Ok. Non ti ho parlato del nostro governo e delle nostre azioni militari, vero? Non torniamo alla nostra schermata. Puoi farla semplicemente cliccandovi. Perfetto. Diamo uno sguardo al governo. Quindi clicchiamo qua. Noi siamo in dispotismo. Come puoi vedere abbiamo il dispotismo, tutte le azioni civili. Ah, lui ha teocrazia che gli dava uno in più di militare. Per quello ha cinque. Perché ha uno che vale due. Due che valgono uno, che fa quattro, più quello dovuto alla teocrazia. Tutte le civiltà cominciano così, ma più avanti possono sviluppare dei governi più avanzati. In questo caso il mio è il semplice, iniziale. Ci dà quattro azioni civili e due militari. Ecco, infatti c'è il simboletto rosso anche. Da quando abbiamo costruito le piramidi abbiamo avuto cinque azioni civili, ma il governo di per sé ne conta quattro. Le azioni militari vengono usate per costruire e migliorare le unità militari. Finora non abbiamo usato le nostre azioni militari perché pensavo non ne avessimo bisogno, ma mi sono sbagliato, perdonami. Quindi abbiamo anche questo aspetto. Dobbiamo recuperare. Costruiamo un'altra unità di guerrieri. Per farlo... Sai una cosa? Lascerò che sia tuo a trovare un modo semplice per farlo. Anche se non dovrebbe essere così semplice. Quindi in teoria basta che faccio così. E così. Aha! Stai iniziato davvero bravo in questo. Hai speso 1,3 per un'azione. Quindi abbiamo speso 1 di guerrieri. Quindi abbiamo speso un'azione per produrre il cittadino e un'azione per farlo diventare un guerriero. La nostra forza è inventata, ma non di così tanto. Infatti adesso c'è un 2 a fianco al suo testa. Non è necessario essere la civiltà più forte del gioco, ma è importante stare al passo. Specialmente se qualcuno comincia la corsa agli oramenti. Eh! Solo dal suo nome, arte della guerra, sembra una tecnologia che può aiutarci in questa situazione ed abbiamo abbastanza scienza per svilupparla. Costa 5, io ho 5, quindi prendiamocela e usiamola subito. Dopo aver speso 2 azioni e 5, il monumento dell'arte della guerra compare al nostro fianco. Clicchiamolo per avere uno sguardo sulla carta. Quindi questa carta ci genera un'azione in più e ci dà uno in più di forza. Le tecnologie blu sono speciali, non richiedono lavoratori e vengono applicate appena sviluppate. Quindi l'abbiamo presa e l'abbiamo giocata subito. Ci dà uno in forza, un'azione militare. Puoi consultare le tue carte cliccando la freccia a sinistra e la destra per favore provaci. Quindi a sinistra, ok, abbiamo due zone tra normale e le altre. Ora, cortosamente, provo a trovare le carte degli edifici, che sono queste. Ci siamo. Ed ora ho capito cosa possiamo fare con 3 che abbiamo. Miglioriamo la nostra ultima miniera in era A, quindi così. Abbiamo ancora un'azione, diamo uno sguardo alla fila delle carte. Quindi qua non abbiamo più niente, abbiamo tutte e tre sopra. Prima o poi vorremmo un governo più avanzato, quindi prendiamo Monarchia. Monarchia ci dà 5-3. Prendiamola. Questa era la nostra ultima azione civile. Abbiamo ancora alcune azioni militari non spese, ma questa è una buona cosa in realtà. Quindi abbiamo questa che costa 8, quindi non possiamo farla adesso. Terminiamo il nostro turno? Cosa mi servono le unità militari in più? Ora la produzione peschiamo casualmente una carta militare per ogni azione militare non spesa. Quindi c'è un altro mazzo che c'entra con i militari. Vedi, ci sono le nostre due carte azioni militari per le nostre due azioni militari non spese. Le esamineremo più tardi. Ora serviamo il turno dell'avversario. Quindi abbiamo due mazzi. Il nostro avversario spenderà le azioni civili e militari così come abbiamo fatto noi. Quindi lui cosa fa? La civiltà avversaria aumenta la sua popolazione. Costruisce una miniera. E dà migliora categoria nei spazacini come previsto. Quindi adesso lui ha 6. E con le azioni di civile rimaste la civiltà avversaria ha preso una carta che è il patriottismo. Quando ha terminato il turno ha prodotto il cibo, risorse, scienze e cultura. Infine riceve carte militari per le azioni inutilizzate che sono coperte. Nota che possiamo vedere solo le carte civili perché le hanno preso apertamente ma non possiamo sapere che carte militari ha pescato. Posso dire però due terribili aggressioni. E questo sarebbe un male. Spero che stia bleffando. Ora tocca a noi. Quindi ci sono anche le carte coperte. Torniamo a noi. Le nostre carte militari ci danno la possibilità di valutare la nostra prima azione politica. Fase politica adesso. Quindi c'è prima la fase politica. All'inizio di ogni turno puoi svolgere al massimo un'azione politica. Che in genere vuol dire giocare una carta militare. Entrambe le carte militari sono dello stesso tipo. Eventi. Cliccane uno per favore. Quindi abbiamo il regno del terrore. La civiltà più debole perde un punto o una popolazione. La descrizione sotto questo fumetto riassume in grosso modo come funzionano gli eventi. Ora leggi il testo di ogni carta evento e scegli quella che pensi sia meglio per la tua civiltà. E nuovi giacimenti però produce... Ignora la corruzione e produce più risorse. Programma questo evento e totalizza uno? Vai. Scelta eccellente. Quindi abbiamo questa cosa. Mazzo, eventi attuali, F1 per esaminare e una carta evento. Cosa vuol dire F1 per esaminare? Abbiamo totalizzato un punto cultura per aver influenzato il corso della storia e il nostro evento è stato programmato come uno degli eventi futuri. Ah! Inoltre quando si gioca un evento se ne rivela sempre un altro programmato in precedenza. Vediamo quale. Sviluppo scientifico. Ogni civiltà guadagna due punti. Quindi progredisce la storia in questa maniera. Quindi possiamo influenzare la storia ma progredisce. Molto bello. Bello, stiamo per ottenere due punti scienze. I primi eventi sono preparati dal gioco stesso. Tanto io sono di nuovo con la webcam sopra dove dovrei stare. Quindi abbassiamo leggermente la cosa. Vedete che adesso sopra la mia testolina sono apparsi gli eventi. Vedete che sono due... Erano tre eventi di A e uno di 1. Che è quello che ho fatto io. Quindi abbiamo questo. Quindi questo è positivo per tutti i giocatori perché mi dà due punti in più di scienza. Fai attenzione. Più in l'anno della partita cominceranno a comparire gli eventi preparati ai giocatori. E questi non sono sempre così piacevoli. Quindi questa è la nostra prima fase politica. Adesso è l'umente della fase azioni come già conosciamo. Quindi c'è la fase azione. Penso che stiamo producendo abbastanza scienza. Concordo. Come dice Leonardo dovremo costruire un altro laboratorio. Direi di no. Non puoi costruire un terzo laboratorio quando sei sotto dispotismo. Eh lo so. Avevo pianificato di permettere al giocatore di aumentare la popolazione. Quindi di provare a costruire il laboratorio. Quindi il pussante sarebbe stato disabilitato. Ed io come ops ho dimenticato il limite di edifici urbani. Annulliamo l'intero turno. Perché non gli mostri semplicemente la carta governo? Vedete che c'è scritto due? Quindi potreste dire il numero in basso determina il numero massimo di edifici urbani di ogni tipo che puoi avere. Ok. Quindi gli edifici urbani sono questi due. No no il giocatore impara meglio facendo pratica. Guardami all'opera. Ciao Ace the Brave. Torniamo al lavoro. Pare che abbiamo bisogno di un governo migliore. Per favore clicca sulla carta monarchia che abbiamo preso nell'ultimo turno. Tadà. Quindi sviluppo questo governo pacificamente o fare una rivoluzione? In due modi. Puoi sviluppare come ogni altra tecnologia. In questo caso abbiamo il prezzo come al solito. Come puoi vedere non abbiamo così tanti punti scienze. Costa 8 che è scritto qua sopra. Oppure puoi giocare tutto il turno praticamente con una rivoluzione e consumare tutte le azioni per il turno. Proviamolo. Quindi finisce tutto però è andato 6 e 4 adesso e siamo diventati una monarchia. In questo turno tutte le azioni civili sono state spese a causa della rivoluzione. Non abbiamo modo di spendere le azioni militari perché non abbiamo lavoratori utilizzati disponibili. Questo significa che affronteremo la corruzione. Le rivoluzioni tendono ad essere dure. Vero? Adoro quando un'altra nazione è nel caos. Oh e questi nostri vicini? No. Ho paura di non poterci permettere di perdere un intero turno proprio ora. Mi mancherà questo meraviglioso castello. Ma dovremmo annullare la rivoluzione per favore. Quindi ritorniamo indietro. Visto Leonardo adesso Ice the Brave conosce come guidare una rivoluzione e le conseguenze che questo comporta. Ok. Ma ancora non sa come aumentare la sua produzione di scienza. Giusta osservazione Ice the Brave. Miglioriamo i nostri laboratori. Sai cosa? Provaci da solo. Trovo un modo per migliorare entrambi i nostri laboratori. Quindi il laboratorio è questo. Costruisci un nuovo laboratorio. Possiamo farlo ma sarebbe un problema. Eredità culturale cosa ci dà? Ci dà un punto in più e 4 di vittoria. Alchimia? Prendiamo alchimia. E possiamo usarla. Bene! Cosa ho fatto esattamente? Ne ho costruito uno qua sopra. Migliora un laboratorio di era all'era 1. Quindi facciamolo. Abbiamo spostato questo qua praticamente. E possiamo spostarne un altro? Sì! Fantastico! Visto Leonardo è Ice the Brave ora può giocare la partita senza il mio aiuto. Davvero incredibile lo ammetto. Ci resta un'azione. Che ne dici di prendere un'altra carta? Beh! Una carta azione? O stavi pensando alla drammaturgia? Perché non prendere me? Questa potrebbe essere una buona idea. I leader in questo gioco durano molto ma non per sempre. Il mazzo è quasi finito. L'era 1 terminerà presto. In quel momento tutti i leader di era A moriranno. Allora un buon momento per pensare a un sostituto, giusto? Leonardo è un leader di era 1. Non hai ancora preso un leader di era 1. Quindi puoi prenderlo. Ok? Facciamolo. Quindi prendo Leonardo. Benvenuto in squadra Leonardo! Grazie! Terminiamo il nostro turno. Non abbiamo migliorato la nostra forza in questo turno. Speriamo che il nostro avversario non abbia carta aggressione. Aia! Intanto produciamo un'altra roba. Ah! 4 punti scienza a turno. Penso che mi piacerà lavorare con te. Non abbiamo ottenuto... Abbiamo ottenuto 3 nuove carte militari. Le guarderemo dopo. Quindi bello, bello, complesso questo gioco. Ora il nostro avversario giocherà la sua fase politica. Quindi mancano ancora 2 turni. Possiamo premere F3 per esaminare le carte? Potrebbe essere dura? Scusate, mi volevo dare un'occhiata. Sono curioso di sapere cosa sta per accadere. È bello che fa capolino la carta. E sono di nuovo in mezzo, ma vedete che c'è la carta di Leonardo da Vinci che sta guardando da lì. Dove mi metto io? Mi metto qua sotto, dai. Ho deciso di risparmiarvi per ora. Questo probabilmente non significa che ancora non ha carta di aggressione. Ho davvero... Però ho programmato un evento. Potrebbe essere qualcosa di spiacevole. Ci vorranno parecchi turni prima che appaia. Vediamo l'evento che ha scatenato ora. Sviluppo agricolo. Ogni civiltà guadagna 2 di cibo. Va bene? Oh, altro cibo. Ci tornerà utile. Vediamo come lo userà il nostro avversario. Altra roba militare? Ha aumentato la sua popolazione? Certo. Un tempio. Pare che la civiltà necessita di più felicità. e ha comprato una carta. Meraviglia. L'università Carolina. Tutto qui? Nessun corso alle normalmente? Pare di no. Hanno esaurito i lavoratori e azioni risorse. Sei sicuro? Eh no. Invece no. Tada! Nove di forza. Ma che cavolo? Che ha fatto? Non ne ho idea. Controlliamo il registro. Ah, adesso capisco. Ah, è l'abilità di Federico Verbarossa. Eh già. Ha usato l'abilità speciale del suo leader. È una carta tattica. Ora siamo nei guai. Chiudiamo il registro e facciamole finire il turno. Quindi con l'abilità di Federico Verbarossa aumenta la sua popolazione e costruisce guerrieri con 2-1. Quindi è quello che può fare lui fondamentalmente. E probabilmente anche Leonardo avrà qualcosa. Ha preso un'altra carta di queste. Hanno pescato una sola carta militare. Ovvio, ha terminato il turno con una sola azione militare rimanente. Spero non sia un'aggressione. Grrrr, sei così infortunato. Ok. Qua mancano ancora 2 carte. Qua sono state pescate 4 carte. Quindi il prossimo turno passeremo di era. Allora, alla fine del nostro turno avevamo pescato 3 carte militari. Uno è un territorio. Viene giocato come evento e se lo giochi uno degli eventi precedenti sarà liberato. Vlada, hai spiegato come funzionano gli eventi? Velocemente, diamo uno sguardo da vicino. Quindi questi sono gli eventi. Quindi le ere sono fino all'era terza. Quindi c'è l'antichità 1, 2, 3 fondamentalmente. Quindi c'è l'antichità, il passato, il presente e il futuro. Più o meno, no? In realtà questa è l'era medievale. Questa sembra la rivoluzione industriale. Questa sembra il futuro. Un certo numero di eventi di era A sono stati programmati all'inizio della partita. Il numero di eventi dipende dal numero di giocatori. Boh. Due di questi sono già stati rivelati e risolti. Manca un evento di era A e l'ultima carta di quello che chiamiamo un mazzo degli eventi attuali. E qui vediamo due carte che formano un mazzo degli eventi futuri. I cerchi indicano chi ha giocato gli eventi. Quindi uno ha giocato lui, giallo, e uno ha giocato io, rosso. Questo è un evento che ha giocato nell'ultimo turno. L'altro evento o territorio che ha giocato all'avversario. La carta è a faccia in giù perché non sappiamo cosa sia. Se giochiamo ad un evento ora, l'ultimo evento attuale sarà rivelato e il mazzo di eventi futuri verrà mescolato. E, sai una cosa? È troppo complicato. Permettemi invece di mostrartelo. Fase politica. Giochiamo il nostro territorio e preparamolo come un evento futuro. Ok, è finito l'A. Viene girata la carta che è il sviluppo politico che mi fa pescare tre carte ogni giocatore. Grazie! Penso che sia tempo di non sperare più sul fatto che i nostri amici non abbiano carta aggressione. Ci occupiamo di questo a breve. Ora dovremo guardare i piccoli mazzi eventi nell'angolo in alto a sinistra. Adesso qua c'è scritto 0 e qua c'è scritto 1 quindi questo è passato di era questo è l'evento attuale e questo è l'evento futuro. Ah, ho capito come funziona. Visto il mazzo sulle sinistra è stato mescolato e piazzato sulla destra. Cliccalo, cliccale di nuovo. Il mazzo di eventi futuri è vuoto in questo momento in attesa di altri eventi che giocherete tu e il tuo avversario. Quando giochi una carta qui una di quelle che è stata programmata precedentemente verrà livellata ma ora si trovano gli mazzi di eventi attuali. Potrebbe sembrare che questo sia il prossimo evento ma non è necessariamente così. Il mazzo è stato mescolato quindi ognuna di queste carte potrebbe essere in cima indipendentemente dall'ordine in cui vengono mostrate. Padroneggiare i mazzi di eventi è una delle chiavi per padroneggiare through the ages ma succederà con la pratica. Quindi non so cosa succederà adesso quando ci sarà il prossimo evento. Abbiamo molte nuove carte militari in mano ma per ora possiamo ignorarle. La maggior parte delle carte militari sono giocabili solo durante la tua fase politica e questo l'abbiamo fatto. Ma ora potremmo giocare una carta tattica. Sì è vero quella carta rossa è una carta tattica puoi essere giocata durante la tua fase azione a costo di un'azione militare che è esattamente quello che ha fatto il nostro avversario nel suo ultimo turno. Sai cosa? Diamo uno sguardo alla civiltà dell'avversario. Andiamo di là? No ancora voi! Vedi quella tenda a sinistra? Clicca una delle carte cliccala la tenda a sinistra questa la carta è al centro e la loro tattica cliccala si chiama manipolo la tattica attuale di giallo ora è esclusivamente sua all'inizio del suo prossimo turno sarà disponibile per essere copiata da tutti manipolo è una delle tattiche più semplici i due simboli fanteria stanno a significare che ogni coppia di unità di fanteria forma un esercito il numero in basso indica che ogni esercito aggiunge più 1 alla forza della civiltà in guerriere e spiagli sono unità di fanteria il nemico ha quindi un totale di 4 unità di fanteria la forza totale di questa unità è 6 perché questo vale 2 2 per 2 è 4 più 2 è 6 con la tattica manipolo questi formano due eserciti ogni esercito fornisce più 1 addizionale per un totale di forza 8 ma da dove ne viene il nono punto puoi sempre dare uno sguardo ai dettagli di ogni valore prova muovendo il puntatore sopra la forza e vedi e infatti ha 1 in più di teocrazia ha senso un totale pari di forza 9 potenza abilitare formidabile questo non ci sorprende il loro leader ha un'unità speciale per reclutare in maniera efficiente nuova unità a proposito di leader e delle loro capacità speciali e lo so e ora la mia abilità speciale è di insegnare ai liste brevi come giocare una partita il mio lavoro qui è quasi terminato bla 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 che patetico discutiamo l'altrone clicchami per tornare alla nostra civiltà il mazzo era 1 è quasi terminato il medioevo finirà presto e in quel momento i leader dell'antichità devono lasciare il gioco è conveniente sostituire il tuo leader prima che venga costretto a ritirarsi forzatamente come dice leonardo bene immagino che questo sia un arrivederci sei stato uno studente eccellente stami bene e quindi usiamo giochiamo giochiamo leonardo a vinci il tuo miglior laboratorio e biblioteca produce una quantità addizionale di punti scienza pari al suo livello ogni volta che sviluppi una tecnologia guadagni 1 ah interessante quindi più tecnologia si basa sulla tecnologia grazie per avermi scelto come tuo nuovo leader servirà la tua civiltà al meglio intanto cominciamo ad avere un sacco di roba sullo schermo quindi è un po' un problema adesso credo di riuscire a spostare di nuovo la webcam in una zona più interessante tipo qua sopra intanto nota che abbiamo ancora tutte le azioni civili il gioco incoraggia un passaggio di potere fluido giocare alla mia carta ti è costato un'azione civile ma il mio predecessore ritirandosi ci ha restituito l'azione civile gentile da parte sua prego aspetta sì io decido di ritirmi in questa meravigliosa piramide che abbiamo costruito non fate caso a me ehi è un sarcofago questo ah com'è comodo ok torniamo al lavoro is the brave hai notato che il nostro livello di scienza è aumentato a 5 cliccami per capire come ho fatto tutti i leader hanno utili abilità leggi il mio testo cortesemente l'abbiamo appena letto il livello di edificio corrisponde all'era stampata sulla carta ok sì il nostro miglior laboratorio di era 1 e quindi di livello 1 produce perciò 1 in più extra adoro adoro avere buona strumentazione per la ricerca inoltre so tutto sulle invenzioni pratiche quindi ogni tecnologia che svilupperemo ci darà un neon di ferro proviamoci vedi la carta la tecnologia cartografia prendi la giocala e usare la miniera quindi la prendiamo questa è una carta che mi dà 1 in più di forza e 2 in più di navigazione ancora una roba in più è una carta beh sviluppiamola perché costa 4 una pedina blu spostata sul sito di costruzione di miniera di era A questa è la risorsa extra data dalla mia abilità ok sì perché eccola qua sotto non vorrei interrompere ma sa qualcosa sulla tecnologia che hai appena giocato penso di sì hai studiato cartografia cartografia è una tecnologia blu questo significa che il suo effetto si applica appena entra in gioco questo aumenta la nostra forza di 1 e dà un modificatore di più 2 alla nostra forza di colonizzazione il modificatore di colonizzazione viene usato quando un territorio viene rivelato come evento ne abbiamo giocato 1 in questo turno quindi questa tecnologia ci tornerà utile prima o poi ok quindi siamo a forza 4 ma ce ne serve di più diamo uno sguardo a quella tattica che abbiamo in mano anche senza cliccarla possiamo vedere che richiede un'unità di fanteria e una di cavalleria per darci 2 di forza per costruire un'unità di cavalleria abbiamo bisogno di una tecnologia cavalleria i cavalieri medievali sono cavalleria ma prenderli ci costa 3 azioni aspettiamo che la carta diventi più economica ah giusto perché scorrono e quindi diventano più più economiche abbiamo davvero bisogno di spendere subito delle risorse del cibo altrimenti dovremmo affrontare la terribile corruzione se facessimo due nuovi laboratori di un guerriero avremmo speso parecchie pedine blu ed aumentato la nostra forza quindi facciamo così facciamo così e cosa ci richiede? costruisci un'unità di guerriere splendido abbiamo una risorsa rimasta siccome l'era è finita presto dovremo aspetta non dirlo perché no? mi spiega mi spiega molto bene sei un esperto nell'insegnare alle persone a giocare quindi este brave come nostra ultima azione dovremmo prendere un'altra carta eredità culturale va bene giusto ma in verità dovremmo ah non importa ora clicca su fine turno ho qualcosa da mostrarti fase scarto abbiamo anche questo il gioco ci sta chiedendo di scartare alcune carte militari possiamo ottenere solo tre per la nostra civiltà un totale di tre azioni militari conserviamo le carte tattiche queste due carte verdi e marroni con il numero di esse potrebbero aiutarci a diffondere un'aggressione ok quindi via spunta le altre ok quindi questa no questa c'è un insetto nel milenzuolo grande almeno così ok questa questa e questa credo di aver scartato giusta bene fase di produzione e ora peschiamo due nuove carte militari per le nostre azioni militari non spese e siamo all'era industriale tutte le civiltà perdono due della loro riserva e is the brave scarta eredità culturale come anticipato il mazzo 1 ha terminato le carte l'era 2 è cominciata alla fine alla fine alla fine dell'era 1 2 e 3 ogni civiltà perde due piedine gialli della prova riserva questo rappresenta il fatto che la popolazione diventa più esigente nel progredire della civiltà inoltre vengono scartate alcune carte molto vecchie leader e meraviglie non completate quindi avevo eredità culturale che ho comprato che però è di era 1 hai già sostenuto il tuo leader e hai terminato la tua meraviglia di era A quindi l'unica carta che perdi è la tua carta azione di era A vladan non avrebbe voluto che ti chiedessi di giocarla penso che l'unica ragione per cui l'abbia voluto lui abbia voluto che tu la prendessi per poter dimostrare questa regola dello scarto grazie lui mette manipolo diventa una tattica comune quindi posso copiargliela ecco un'altra cosa che accade all'inizio del turno dell'avversario le sue tattiche diventano tattiche comuni da questo momento tutti i giocatori possono usarle quindi abbiamo la bella progressione comune sai che c'è guardando questa civiltà mi accorgo che non sono così tanto diversi a noi può darsi che possiamo trovare un modo per convivere pacificamente carica ovviamente e ha la tattica l'aggressione e l'incursione vediamo come funziona il combattimento oh mamma è un'aggressione vogliono bruciare i nostri preziosi laboratori non possiamo permetterglielo poi difendere per difendere dobbiamo pareggiare temporaneamente la loro forza scartando carte militari fortunatamente abbiamo molte carte bonus militari questo ci sarà d'aiuto possiamo scartare fino a tre carte perché abbiamo tre azioni militari una carta militare può essere scartata per ottenere bonus di forza più uno una delle nostre carte bonus militari ci darà due punti alla forza la sua forza è di quattro punti più della nostra quindi abbiamo bisogno di scartare un complicello di quarto scartiamo queste due o scartiamo una carta bonus e altre due carte militari se non avessimo carte bonus sarebbero obbligate a subire sconfitta scartare tre carte militari normali ci darebbe solo più tre di bonus ti lascerò quali carte prendere quindi questa ci dà più due questa ci dà più due questa ci dà più due facciamo così no facciamo teniamoci questa e devo decidere quale delle due scartare facciamo così non abbiamo bisogno di scartare così tanto abbiamo solo bisogno ah ok quindi posso scartare anche solo due arg voi altri siete così fortunati ma prima o poi finirete le carte per difendervi allora razzierò la nostra debole nazione vostra debole nazione un'ora di tutorial erotti wow stanno rullando in maniera alquanto massiccia hanno persino distrutto la miniera per evitare una sommossa fortunatamente ho un piano per recuperare due azioni civili rimaste penso che prenderò questa carta e prendere i cavalieri no cielo avremmo bisogno davvero di quella carta competere questo è dalle piramidi competere per le carte è una parte importante del gioco se hai davvero bisogno di una carta doversi considerarla di prenderla anche se costa due o tre azioni civili vlada sei ancora lì? certo perché no sembra che l'ambiente assettico delle piramidi faccia bene alla salute il nostro avversario pesca una carta militare nota che ha un dorso diverso ora siamo nell'era 2 siamo quasi alla fine del nostro tutorial c'è solo un'altra cosa da spiegare cortesemente gioca quell'evento dalla tua mano è una cosa è una buona carta questo evento ogni civiltà guadagna immediatamente punti pare al proprio tasso di punte uh molto bene giochiamola che va lì e viene salta fuori terreno abitato vedi questa è la carta territorio che abbiamo giocato precedentemente ora è il tempo di colonizzare la colonizzazione funziona come un'asta chi decide di inviare la più grande forza di colonizzazione vince il territorio che diventa la sua colonia vincere una colonia porta davvero molti vantaggi c'è un vantaggio immediato che è indicato dal centro della carta quindi uno in più di popolazione è una cosa in più importante fornisce beneficio permanente indicato in basso dalla carta questo territorio abitato aggiungerebbe permanentemente due pedine alla nostra ricerca e aumenterebbe subito e gratuitamente la nostra popolazione siccome il territorio è stato rivelato nel nostro turno sta a noi aprire l'asta dicendo quanto grande è la nostra forza di colonizzazione possiamo usare questa freccia per impostare la nostra puntata altrimenti altrimenti possiamo sperimentare diverse forze di colonizzazione trascinando unità e carte nel riquadro in alto trascina uno dei nostri guerrieri fin qui quindi da da qua nostri guerrieri questo ah ok questi sono i nostri guerrieri ok questo imposta automaticamente la nostra puntata 3 perché i nostri guerrieri hanno forza 1 quindi aggiungono 1 alla nostra forza di colonizzazione inoltre abbiamo il modificatore di colonizzazione di cartografia 1 più 2 3 una puntata iniziale di 3 è un'ottima idea perché è la forza minima che possiamo inviare questo è vero Leonardo ma io suggerirei di cominciare piuttosto con una puntata più bassa in modo che Ace the Brave possa vedere di più sull'asta molto bene possiamo impostare la puntata usando le frecce uso la freccia per ridurre la nostra puntata 1 quindi così nota che il quadro di prova si è chiuso non appena hai cliccato le frecce trascinare unità e usare le frecce sono due modi differenti per impostare la puntata non importa quale metodo usiti importa solo la puntata che risulta ora confermiamo la puntata punta 1 adesso è il turno del nostro avversario che potrà fare una puntata più alta o passare passare mai cosa punti ha puntato 3 quindi ora dobbiamo passare o puntare 4 dovremmo riflettere un po' su questa decisione vedi se vinciamo la colonia perderemo le unità inviate ecco perché prima di decidere diamo uno sguardo alle opzioni del nostro avversario se hai bisogno di esaminare la situazione puoi rimpicciolire la finestra grande come questa cliccando sull'icona in alto a destra per il tuo comitale le cose più importanti sulla colonizzazione vengono mostrate proprio qui clicca l'avversario qua non ha un modificatore di colonizzazione ma ogni spazacino ha forza 2 se inviassero due spazacini conterebbero anche il più 1 della loro tattica e una forza di colonizzazione totale di 5 si puoi scordartelo quel territorio sarà nostro questa è la forza di aumento che è dovuta alla tattica e questi sono loro ok beh non permettiamogli di ottenerla a buon mercato possiamo radunare una forza di 4 sia usando i nostri guerrieri e inviando un guerriero o usando la nostra carta bonus vedi la metà inferiore dice che puoi darci un bonus di più nella colonizzazione ma non dobbiamo decidere adesso come deve essere composta la nostra forza di colonizzazione dobbiamo solo fare una puntata usiamo le frecce per impostare la puntata ah ok io dico 4 ma non gli dico con cosa ancora ehi sai cosa prendila quindi c'è un po' di bluff o pieni migliori per le minorità e abbiamo vinto la colonia mamma mia è andata beh abbiamo vinto speriamo di non partircele conferma la nostra vittoria cliccando ok ok adesso dobbiamo inviare la forza di colonizzazione pari a 4 pari alla nostra puntata vincente ora puoi vedere che attualmente il valore della nostra forza è 0 ed è richiesto un 4 trascinando la nostra carta bonus fin qui quindi adesso abbiamo questo discorso che dobbiamo decidere come arrivare a 4 quindi questo 2 vedi la forza di colonizzazione è ancora 0 una forza di colonizzazione deve essere sempre almeno un'unità mandiamo un'unità di guerrieri quindi questa e adesso abbiamo 4 e questo è tutto quello che ci serve il guerriero la carta bonus è il nostro modificatore di più 2 per un totale di colonizzazione di 4 inviamo i nostri coloni colonizza abbiamo questo discorso che ci è stata aumentata la cosa abbiamo perso l'unità di guerrieri la pedina è tornata dalla nostra riserva e abbiamo scartato la carta bonus comunque ora abbiamo una nuova colonia che è qua in fondo una colonia e questa è la fine del tutorial abbiamo perso che tutto quanto non è vero che mi dice delle guerre ho detto quasi tutto non parleremo delle guerre ci richiede molti altri round ma ho appena pescato una guerra stavo per dichiarare guerra al prossimo turno sì sì ma poi avremo da giocare un altro intero round vedi al contrario delle aggressioni le guerre non vengono risolte immediatamente l'attaccante dichiara guerra come azione politica quindi le due civiltà coinvolte nella guerra ottengono ognuna un turno intero nel quale possono migliorare la loro potenza militare la guerra viene risolta all'inizio del prossimo turno dell'attaccante la civiltà con la forza maggiore in quel momento vincerà la guerra maggiore sarà la differenza tra le due forze maggiore sarà l'effetto della guerra quindi non ci sono carte bonus sfortunate ad aiutarti ma non faremo ora la dimostrazione come dice il tutorial finisce qui non è giusto ho messo su una forza incredibile e tu ti sei indebolito con questa colonizzazione voglio la mia guerra basta piagnucolare questo è solo un tutorial siete dei codardi sai cosa Leonardo lasciamo che dichiari la sua guerra altri due round di tutorial no posso usare i miei poteri per permettergli di dichiarare guerra immediatamente stai insegnando che hai qualche sorta di potere occulto che ti viene infuso dalle piramidi no intendo che posso usare i miei poteri in qualità di programmatore di questo tutorial andiamo Orva Rosso dichiara la tua guerra se ne hai coraggio come adesso il tuo turno questo è infrangere le regole possiamo fingere che tu abbia dichiarato la guerra durante la tua precedente fase politica invece di giocare con l'aggressione fallita eh ok aspetta un attimo non ho avuto tempo di preparare il mio discorso preparatevi i demoli smidollati faremo schiave le vostre case schiave le vostre case e brucieremo i vostri cavalli no e qualcosa riguardo le donne eh non importa dichiarazione di guerra questo significa guerra guerra territoriale il vincitore prende una pedina gialla più una pedina gialla per ogni 5 punti di forza di differenza dalla riserva del giocatore sconfitto vediamo come funziona la guerra quindi siamo in guerra oh vlad speravo di finire questo tutorial con una nota positiva e non perdendo una guerra allora non perdere la guerra infatti siamo in guerra come dice il simboletto sopra la mia testa sono sicuro che ace the brave sono sicuro ace the brave che puoi trovare un modo per vincerla ti ricordo che stiamo fingendo che la guerra sia stata dichiarata durante la precedente fase politica dell'avversario lui ha avuto un turno intero nel quale incrementare la sua forza ed ha aumentato la sua forza e adesso abbiamo il nostro turno per aumentare la nostra forza dopo di questo chi avrà la maggior forza vincerà la guerra quindi dobbiamo arrivare a 12 di guerra di forza fallo prova ad ottenere un maggior numero di forza del tuo nemico clicca su questa ok lui ha tutta questa roba qua volevo cercare di capire come cioè perché abbiamo due di cioè cos'è quel due là comunque cosa facciamo cavalieri rinascimentali li prendiamo sì ci da tre solo quella e con questo cinque quindi io la prendo però ho bisogno di un punto per poterla utilizzare allora come faccio ad avere uno in più di questo con spadaccini no con questa è una carta tecnologia gengiscan che non posso prendere alchimia no irrigazione codice leggi scoperta epocale sviluppo una tecnologia dopo aver pagato il costo in scienza guadagni due punti verità culturale cosa mi dà ok allora giochiamo all'edità culturale che mi dà più scienza a questo punto potrei riuscire a prendere questa prenderla e giocarla perfetto con due di questi dovrei riuscire a giocare questa anche abbiamo la tattica perfetto e adesso dovrei convertire questo qua e abbiamo nove e questo qua abbiamo quattordici perché abbiamo abbiamo un totale di otto dovuto a quattro unità militari perché questa vale due giusto questa vale tre quindi abbiamo tre più tre sei più uno più uno otto e poi abbiamo il due abbiamo due due dovuto all'esercito medievale doppio perché ci sono due copie di fanteria a cavallo fanteria a cavallo più uno della cartografia più uno dell'arte della guerra e quindi in questo momento abbiamo tutto abbiamo speso tutto quindi finiamo il turno è un turno di produzione e adesso si risolve la guerra giusto? esito della guerra hai vinto la guerra e quindi questo mi dà vincitore prende una pedina gialla più una pedina gialla per ogni cinque punti di forza di differenza della riserva del giocatore quindi prendo uno di pedina gialla e fine come è potuto accadere sai cosa? non lo reggo tutto questo stress mi ritiro ciao e viene Bach cosa? dove sono? oh salve vicini congratulazioni es the brave si è arrivato al termine del tutorial la partita completa durerebbe altre due ere dopo l'era 3 c'è l'era 4 molto breve che non ha carte e solo la possibilità data a tutti di portare a termine i propri progetti alla fine della partita si risolvono alcuni eventi punteggio di era 3 che sono stati preparati dai giocatori e quindi il giocatore con più punti cultura vince la partita è tutto è stato un piacere essere la tua guida allora cosa aspetti? avvia una partita personalizzata e scegli la tua prima sfida è tempo di partire di scrivere la tua storia di civilizzazione ok abbiamo completato il tutorial dopo un'ora e dieci quindi è stato molto bello mostrarvelo tutto se volete vedere partite complete perché immagino durerà tipo due ore la partita completa una cosa del genere anche se mi sono messo a leggere tutto quanto devo imparare a giocarlo perché è veramente figo questo gioco anche nella versione da tavolo non l'ho mai visto però potrebbe essere il caso di darci un'occhiata molto molto figo ci vediamo quindi ad un altro sneak peek sperando che sia più corto perché sennò perdo la voce ogni settimana ci vediamo alla prossima io sono East Brave Namaste di Brave per la prossima per la prossima